Ciao a tutti appassionati di Anime Manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche in mio bottega per stare sempre aggiornati, tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Oggi farò la prima impressione di Aung Sung Cinderella, 7,50€ della Ikari, è un manga particolare anche se mi ha ricordato parecchio il diario della speziale, devo dire, c'è questo protagonista Midori Aoi che fa la farmacista in un ospedale, cosa sono i farmacisti? Perché ancora non lo sa, sono quel gruppo di persone che gestiscono la farmacia ospedaliera che in base alla ricetta medica del dottore che ha in cura il paziente all'ospedale preparano i vari preparati farmaceutici e li distribuiscono. Midori Aoi è da pochi anni che lavora qua, però è molto particolare, cioè ci tiene davvero i pazienti, c'è davvero a cuore, non si limita a fare ricetta così come la vede e basta, si fa delle domande, si accorge che magari qualche ricetta è un po' sballata eccetera, quindi va contro quella un po' con la casta di medici e infermieri che decidono loro il decorso del paziente, cosa deve prendere, cosa deve assumere e il farmacista non ci deve un nome del becco, deve solo eseguire gli ordini e quindi sta cosa a Midori un po' disturba, non gli piace, soprattutto col suo senpai seno che è uno dei farmacisti più importanti che c'è in questo ospedale, che anche lui spesso discute con i dottori su certi farmaci che secondo lui sono sbagliati, anche che magari ci sono certe patologie che magari i pazienti non lo dicono, non ritengo necessario, che vanno in contrasto con i farmaci che vengono assunti e quindi bisognerebbe fare un'indagine più approfondita e Midori per appunto fare parecchie indagini, quindi per quello che mi ricorda molto Diario della Speziale perché è molto simile, un Diario della Speziale è il giorno, i nostri se così vogliamo dire, Midori ha un carattere molto semplice, molto tranquillo, non si fa quasi mai mettere i piedi in testa, è molto spontanea e genuina, ogni tanto un po' svampita ogni tanto, ma non sempre, però è molto carina, molto kawaii, molto chilly, Seno è un uomo tutto da un pezzo che ogni tanto però gli dà comunque una mano a Midori, la prende un po' sotto la sua ala, la prende in simpatia, vediamo il lavoro, la cooperazione tra infermieri, dottori e farmacisti per operare al meglio il paziente, quindi vediamo, si vedrà comunque le varie patologie, le varie farmaci e cosa possono andare in contrasto, quindi magari ci sono alcune cose che magari possono interessare a chi magari affetta alcune patologie del diabete, che c'è alcuni farmaci che potrebbero andare in contrasto, punture di vespe, e quindi magari c'è qualcosa che può interessare anche a chi soffre di certe patologie, è carino, non dico che non sia carino, secondo me è un manga più dato che magari vuole fare medico, che vuole studiare medicina, è più interessante per quello, per loro ecco, poi comunque sia ecco, come già accennato nei scorsi video, siccome prossimo anno aumenteranno i prezzi, soprattutto da Star Comics, e quindi mi aspetto anche che prima o poi metti anche J-Pop, Icari e tutte le case, faccio una scelta e prendo solo davvero quelli che meritano davvero, secondo me, o perlomeno non che meritano, che mi piacciono davvero, che so che li leggerei volentieri, so cosa posso aspettarmi, quindi per ora decido questo di non continuarlo, poi non si sa mai, magari fra sei mesi magari sono finite due o tre serie che sto seguendo, magari lo riprendo in mano ecco, quindi, però per ora qualche modo decido di non continuarlo, lui è carino, però ecco, non mi dà quella voglia di continuare, forse perché comunque non è un argomento che così, mi interessa così tanto, questo è un argomento molto di nicchia, molto particolare, che secondo me piace molto di più a chi proprio va in questo settore, e chi interessa questo settore, perché i rapporti interpersonali, almeno nel primo volume, non è che ci sono grossi rapporti personali, grosse evoluzioni, sì c'è questo Senpai, questa Koai, ma niente di più, niente di meno, semplici rapporti lavorativi, poi non so se si evolverà la situazione e 3-2 comincerà a nascere anche qualcosa, magari sì, per ora come ora non so dirlo, non so neanche, non c'ho questa sicurezza, perché comunque è un manga incentrato per appunto sulla medicina, sulla farmacia, quindi è incentrato lì. Io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate like, noi ci vediamo ai prossimi video.